Un defibrillatore lungo la ciclopista dell'Archiano, a poca distanza da dove Gabriele Lusini perse la vita, folgorato dai cavi della corrente elettrica, agganciati inavvertitamente con l'amo della sua canna in carbonio estendibile. Era il 12 giugno scorso, l'indomani il giovane avrebbe compiuto 21 anni. A donarlo sono stati i genitori del ragazzo, Catiuscia e Fabio Lusini. Ancora un gesto di altruismo, solidarietà e speranza ha commentato il sindaco di Bibiena, Filippo Vagnoli. La scomparsa di Gabriele ha generato un grande vuoto, i suoi genitori però ci stanno insegnando molto in questo momento grazie a questa e altre iniziative che hanno intrapreso. Questo defibrillatore va a arricchire il progetto Il Cuore di Bibiena per rendere più sicuro il nostro territorio. Lo strumento è stato installato in prossimità di Via dell'Orto a Soci, a poca distanza dal luogo della tragedia. La ciclopista dell'Archiano è molto frequentata in ogni stagione, per questo la presenza del dispositivo assume una grande importanza, conclude il primo cittadino. Parliamo di sicurezza per tutti.